Una viaggiatrice davvero tosta ed efficace è la nuova Honda Africa Twin, ma dopo averla provata a lungo in ogni condizione posso dire che non mi convince fino in fondo il suo set di borse, esattamente come ha rilevato il nostro Andrea Farina in un recente Perché Comprarla. Ascoltiamolo. Probabilmente la qualità costruttiva è molto elevata, eccezione fatta per alcuni dettagli migliorabili, come per esempio la leva della frizione che non è regolabile. Oppure le borse laterali hanno una buona capacità, sono leggere, però le serrature hanno un sistema che secondo me non è all'altezza di altre finiture di questa moto. Nulla di eclatante quindi, ma se si desidera di più ci viene in aiuto il settore dell'aftermarket. Givi propone due interessanti soluzioni in alluminio, le valigie laterali ed il bauletto della serie Trekker Outback. Il materiale di costruzione è leggero ma allo stesso tempo resistente per reggere al meglio ogni tipo di maltrattamento, anche su strade impegnative e in off-road. Il bauletto è inoltre di serie un efficace tappetino realizzato in materiale morbido che, posizionato sul fondo della valigia, assorba gli urti e le vibrazioni trasmesse durante la marcia. Pratica poi la possibilità di utilizzare un'unica chiave sia per azionare i sistemi di apertura e chiusura della valigia che per il meccanismo di aggancio e sgancio dalla moto. Il costruttore dichiara 10 kg di carico massimo sia per le valigie laterali che per il bauletto. Diverse le misure disponibili, le valigie laterali, qui ovviamente ne abbiamo solo una, vanno dai 37 litri di questa che vi mostro alla più capiente da 48. Viceversa il bauletto posteriore ha una volumetria che parte dai 42 litri per raggiungere i 58 di questo esemplare che è in grado di contenere addirittura due caschi integrali. Adesso ve lo mostro. Ciò che apprezzo particolarmente di queste Outback oltre ai ridotti in gombri laterali sono le forme squadrate ed omogenee che rendono davvero pratico e facile lo stivaggio del bagaglio al proprio interno con la possibilità di sfruttarne appieno il volume. Altra caratteristica molto importante durante i ride più avventurosi e con la possibilità di staccare completamente il coperchio superiore per accedere in maniera ancora più agevole agli oggetti che sono riposti all'interno e a certificare ulteriormente la vocazione avventurosa di questo prodotto gli immancabili ganci in acciaio a cui assicurare attraverso le apposite cinghie ulteriori accessori come questa piccola ma utilissima taglia. Davvero un prodotto ben realizzato quindi destinato ad accompagnare i motoviaggiatori più esigenti che hanno bisogno di praticità solidità ma anche leggerezza. Potete scoprire il prezzo di queste Trekker Outback bei GB nella scheda riassuntiva che seguo o nella descrizione di questo video e se avete domande da pormi iscrivetevi al canale youtube di Omnivato.it e vi risponderò